Per installare un filtro PrivaScreen sul tuo laptop o monitor, hai a disposizione due comode opzioni. Se desideri rimuoverlo facilmente, prova le alette adesive, oppure scegli le strisce di B adesivo se preferisci una presa più stabile. Prima di applicare il tuo filtro PrivaScreen, rimuovi la pellicola protettiva trasparente dal retro del filtro, tirandola dall'aletta. Per applicare le alette adesive, per prima cosa, separale. Di seguito, rimuovi la pellicola che protegge la parte adesiva. Applica le alette facendo aderire la parte adesiva sulla cornice in plastica dello schermo, una in alto e una in basso su ciascun lato, ed una al centro della base dello schermo. Per i monitor più grandi potrebbe essere necessario utilizzare due alette per la base dello schermo. Assicurati che il lato arrotondato sia rivolto verso il centro. Dopo aver applicato le alette, devi semplicemente inserire il filtro PrivaScreen dalla parte alta dello schermo, dietro le alette. Puoi installare il tuo filtro allo schermo anche utilizzando le strisce biadesive. Rimuovi la pellicola protettiva da ciascuna striscia. Di seguito, attacca le strisce su ciascuno dei quattro angoli del lato posteriore del filtro PrivaScreen. Poi premi il filtro sullo schermo del tuo laptop o monitor per farlo aderire saldamente. I filtri PrivaScreen sono facili da installare e da rimuovere, e ti aiuteranno ad evitare che occhi curiosi leggano dallo schermo del tuo computer o del laptop. Puoi scegliere in un'ampia gamma di formati adatti alla maggior parte dei modelli di laptop e monitor, così come tablet e smartphone. Scopri subito quale filtro Fellows PrivaScreen è quello giusto per te. Filtri Fellows PrivaScreen. Privacy di cui puoi fidarti. Grazie a tutti.